Musica Benvenuti ragazzi qui è l'E Oggi andremo a vedere i 5 bimbi viziati che reagiscono ai loro regali Prima di iniziare il video volevo salutare Alessia Rosellini e Raffaele Galante Che hanno trovato per primi la frase segreta nel video precedente Passate il mio secondo canale e il mio profilo Instagram Raggiungiamo i 1000 like per questo video Numero 5 So che molti di voi non hanno neanche mai visto dal vivo un iPhone 3G Come questa bambina Per il suo compleanno voleva un iPhone La madre decide quindi di accontentarla e di andare a comprare un iPhone Il problema sta nel fatto che molto probabilmente la madre non conosce la differenza tra i vari modelli E quindi prende un iPhone 3G Al momento della consiglia del regalo la bambina scoppia a piangere di fronte a un modello così datato E di cui non conosceva neanche l'esistenza Solo dopo un po' di tempo le viene spiegato che il modello è molto vecchio E che molte delle cose innovative come la fotocamera frontale su quel modello Non erano neanche presenti I went and spent an hour in the store You shouldn't have done it! You shouldn't have done that! Are you mad about getting an iPhone? It's a 3 A front camera! How mad are you? Don't talk to me! Wait, what type of phone is it? Is it at least a 3S or is it just a 3S? Numero 4 Immaginatevi che per il vostro compleanno vi regalino una macchina di migliaia di dollari Sareste al settimo cielo, no? Sarebbe così per la maggior parte delle persone Ma a quanto pare per la principessa di papà nel video non lo è Infatti è capace di lamentarsi per il colore della macchina Lei la voleva blu ma questa è rossa Grave errore paparino La cosa che mi dà veramente sui nervi è che la madre le dà ragione E tutti se la prendono con il padre che cerca in tutti i modi di tranquillizzare la figlia Grazie a tutti Numero 3 Di scherzi per il nostro compleanno ne abbiamo subiti tutti Dai più divertenti fino a quelli di cattivo gusto Dal video si vede il bambino scartare il regalo e urlare dalla felicità per ciò che in teoria gli è stato regalato Tutto cambia quando apre la scatola e all'interno trova una bambola La sua reazione non sembra quella di un bambino arrabbiato ma di uno che ha capito lo scherzo Infatti esce di casa, lancia la bambola in aria per poi romperla con un sasso Mentre gli invitati ridono per la situazione Ovviamente poi ha ricevuto il vero regalo Mentre 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 Dame La Mentre Ecco un nuovo scherzo fatto con un prodotto Apple Questa volta un iPod 4G Quello molto simile all'iPhone insomma La ragazza voleva un nuovo telefono perché il suo ormai datato non gli permetteva di fare molte cose come per ogni dispositivo Il padre decide quindi di farle uno scherzo portandole un iPod Ovviamente la ragazza ci rimane male e cerca di spiegare al padre che il suo telefono è meglio dell'iPod E che il fatto che abbia la mela non voglia dire che sia obbligatoriamente migliore Quando riceve il vero regalo inizia a piangere dalla felicità o dal sollievo non ho ben capito Numero 1 Ecco un'altra figlia di papà che per il suo sedicesimo compleanno ha ricevuto il regalo sbagliato Questa ragazza è diventata famosa per il motivo sbagliato Infatti il suo sedicesimo compleanno è finito in tv per un reality E le telecamere hanno ripreso e mandato in onda tutto Dai preparativi fino al momento dei regali I suoi genitori oltre alla fantastica festa e a chissà quanti altri regali le hanno comprato una macchina Ma quando la ragazza l'ha vista ha avuto la reazione opposta Ha iniziato a piangere e urlare che quella era il modello di auto sbagliato E che non aveva intenzione di salirci Lei pretendeva che la madre le comprasse l'auto che lei desiderava a tutti i costi Bene ragazzi io come sempre vi ringrazio tantissimo la visione vi ricordo di share un like commento di condividere Se non siete ancora iscritti iscrivete noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao